Caro Presidente Fico, cara Ministra d'Algone, caro Presidente Berantone, mi permetto di farmi portavoce dei che aspetta da anni una legge, una legge che renda legale coltivarsi a casa quattro semplici piantini di cannabis. È l'aretino Walter De Benedetto a rivolgere il suo appello alle istituzioni in concomitanza con la ripresa della discussione in Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati del disegno di legge riguardante la possibilità di coltivare cannabinoidi all'interno delle mura domestiche a fini terapeutici. De Benedetto è affetto da artrite reumatoide, malattia che gli causa dolori fortissimi, spesso leniti solo con i cannabinoidi. Costretto a coltivare cannabis perché la quantità a scopo terapeutico non basta, ha dovuto anche affrontare un processo penale, poi è stato prosciolto. Tramite il Comitato Cannabis Legale, formato da Meglio Legale, l'Associazione Luca Coscioni e Forum Droghe, De Benedetto ha scritto al Presidente della Camera, Roberto Fico, alla Ministra Fabiana Dadone e al Presidente della Commissione Giustizia, Mario Perantoni. La proposta sulla coltivazione domestica introdurrebbe la possibilità di coltivare fino a quattro piantine di cannabis, inserirebbe la fattispecie di lieve entità per i casi meno gravi, toglierebbe la sanzione amministrativa nel caso in cui sia un tossico dipendente a commettere il reato di produzione o spaccio e non punirebbe la condotta con il carcere ma con i lavori socialmente utili. Per chi come me ne ha bisogno per adeguare il dolore, per chi è costretto ogni giorno a rivolgersi alle piacce e dispiace, in Parlamento la vostra c'è, i numeri per approvarla anche, io come tanti altri ho sperato dal referendum cannabis, ora tocca a voi ascoltarci, decidere e permettere all'Isalia di fare dal passo avanti. Noi continuiamo ad aspettare, ad aspettare voi. Grazie Walter